Lunedì in salita per chi ha scelto di viaggiare con il treno sulla linea Tirano-Lecco-Milano. La settimana si è infatti aperta con una serie di ritardi, soppressioni, disagi, appuntamenti saltati. Un fronte caldo era localizzato nel Milanese. Questa mattina, spiega Trenord sul proprio sito internet, a causa del prolungarsi di lavori di potenziamento tecnologico nella stazione di Milano-Greco-Pirelli, la circolazione ferroviaria sulla direttrice ha subito forti rallentamenti. Tutti i treni in arrivo in transito dalla stazione, aggiunge la società, hanno dovuto effettuare soste impreviste e prolungate che hanno generato ritardi anche fino a 30 minuti. Sono state cancellate alcune corse, prosegue Trenord, al fine di snellire il traffico ferroviario e riprogrammare il servizio. Gli interventi tecnici da parte di RFI, la società che gestisce la rete ferroviaria, sono terminati alle 11 ma le ripercussioni sulla circolazione hanno interessato anche le ore successive. A creare ulteriori rallentamenti, i problemi che hanno interessato la tratta valterinese della linea. Ci hanno segnalato un malfunzionamento, due passaggi a livello, uno a Trezenda, l'altro nella zona di Morbegno, spiega Giorgio Nana, segretario della Filcigiele di Sondrio. Cogliamo l'occasione, aggiunge Nana, per rilanciare la nostra proposta, quella di ridurre il numero dei passaggi a livello. Sono ancora troppi quelli presenti lungo la linea. Nel pomeriggio alti disservizi, il treno partito da Colico alle 14.37 ha accumulato circa 30 minuti di ritardo, il diretto Milano-Tirano delle 13.20 una ventina. Il motivo? Le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea. Spiega Trenord sul proprio sito.